Vite che si incrociano, si sfiorano e poi, veloci, vanno via prendo altre porte e prendendo altre strade. Il calcio ne è pieno come ne è piena la vita. È il caso di Gianmarco Zigoni, Eros Schiavon e Mariano Arini, tre ex biancoverdi che ora indossano la casacca della SPAL e che venerdì torneranno ad Avellino da avversari. Qualcuno lo ha già fatto, altri come Mariano Arini ci ritorneranno per la prima volta. E magari l'emozione ci sarà, soprattutto per uno come Mariano, che il biancoverde ce l'aveva davvero cucito addosso. In Irpinia dal 2013 al 2016, 132 presenze con la maglia dei lupi e 12 gol. Poi la decisione di cambiare aria, arrivata come un fulmi a ciel sereno poco prima del ritiro estivo. L'ex numero 4 però a quel ritiro ci andò lo stesso per salutare i suoi compagni prima di fare le valigie ed incamminarsi per una nuova strada, la SPAL, appunto, dove arriva a titolo definitivo. Venerdì forse strapperà un applauso a quanti lo hanno apprezzato negli anni, magari anche a chi lo ha criticato ed oggi, guarda un po', lo rimpiange. Qualche volta, a dire il vero, il popolo biancoverde ha rimpianto anche Eros Schiavon, centrocampista anche egli dai piedi educati ed ordinati. Il biancoverde è arrivato nel 2013 e ci è rimasto fino al 2015, 39 le presenze e il primo anno con tre gol all'attivo, 27. L'anno successivo, due nei play-off senza mettere però a segno gol. Schiavon poi passa alla SPAL nel gennaio del 2016 con un contratto fino al 2018. Gianmarco Zigoni è un nome difficile da dimenticare per gli appassionati del lupo. L'attaccante attualmente in forza a Ferrara arriva ad Avellino nel 2011 e ci resta fino al 2012 per poi rientrare nel 2013. 40 le presenze nelle due esperienze e 17 i gol, uno dei quali fondamentale. Il gol decisivo nel match in trasferta contro il Catanzaro, vinto per 1-0 dei Lupi Irpini. Una vittoria che segnò l'aritmetica promozione dell'Avellino in Serie B, quattro anni dopo il fallimento. Anche egli spesso rimpianto da chi forse, a giusta ragione, sosteneva che la società lo avesse ceduto troppo in fretta. Misteri del calcio e strade che si incrociano, alla fine però sempre nel verde di uno stadio.